O Dio! Che governi il tuo popolo con la suavità e la forza del tuo amore. Per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona il tuo spirito di sapienza a coloro che hai posto maestri e guide nella Chiesa. Perché il progresso dei fedeli sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.